ragazzi approfitto di questo video per rispondere a una domanda che in tantissimi di voi mi avete posto questi pannelli solari fotovoltaici possono essere collegati in serie e parallelo allora ragazzi in linea generale sì i pannelli solari possono essere cablati e connessi in serie e parallelo ok nel mio caso sono tutti connessi in serie 10 una stringa 5 l'altra stringa io non amo la connessione parallela dei pannelli per vari fattori nello specifico comunque chi operà come me all'utilizzo di inverter ibridi sappiate ragazzi che in questi inverter ibridi accettano alte tensioni in ingresso delle stringhe ma medie correnti di stringa cioè se un pannello se una stringa di pannelli mi da 10 ampere ok se io metto due stringhe in parallelo arriva a 20 ampere ok il mio inverter massimo può accettare 15 ampere capite benissimo che facciamo la frittata questo sta a significare che i pannelli in parallelo tanto e non quanto grazie oggi alle tecnologie a questi inverter ibridi conviene più fare doppia stringa come ho fatto io e non installare i pannelli in parallelo perciò nel mio caso avevo 15 pannelli cosa ho fatto una stringa da 10 una stringa da 5 mantenendo la corrente a 10 11 ampere il mio inverter massimo ne può accettare 15 perciò ragazzi ci sto dentro alla grande però ho avuto diciamo la buona cosa di suddividere le stringhe questo cosa sta a significare che numero uno non sovraccarico gli inverter le linee i cavi la potenza si suddivide in due impianti distinte separati in più con l'installazione che io ho scelto di fare vedi questi a terra producono benissimo in estate quelli sopra in alto producono benissimo sia in estate che in inverno perciò per l'inverno il mio inseguitore solare alzerà l'inclinazione dei pannelli alzandola ragazzi io capterò più sole possibile cosa che questi non faranno quando quelli mi producono quattro kilowatt questi a terra ragazzi me ne producono forse 200 300 questo perché perché la ragazzi l'inclinazione è una cosa molto importante da non sottovalutare ok considerando le dimensioni del mio terrazzo e che ho preferito montarli così a terra come scelta ulteriore potevo anche dotarli di si stanno alzando si stanno sollevando in questo momento comunque potevo anche dotarli di una struttura di sollevamento automatizzata però ragazzi ho scelto di no perché perché qui in quest'altro spazio che ho voglio mettere un'altra striscia con inclinazione circa 5 gradi così da abbondare di pannelli anche per la stagione estiva perciò in estate vanno forti loro in inverno ripeto andranno forte loro e sono 10 e arrivano a produrmi anche 4 kilowatt e mezzo 4 kilowatt e 100 ok perciò ragazzi questo è il tutto se siete interessati anche voi all'impianto fotovoltaico off grid iscrivetevi mi raccomando abbonatevi al canale se volete sostenermi continuate a seguirmi perché arriveranno grandi grandi novità grazie alle collaborazioni degli sponsor sia da lì può vmr ma ce ne sono tantissimi altri ragazzi che a breve vi presenterò ciao ragazzi al prossimo video